Grazie a tutti Sì, sapevamo che oggi era l'ultima scelta Un po' forte Dovevamo dare la possibilità di uscire fuori e fare il nuovo gioco Quindi siamo state brave a mantenere il nostro livello alto Nel secondo set abbiamo fatto molta fatica Eravamo sotte, siamo riusciti a recuperare Penso che sia stato un po' più forte E felicissima perché abbiamo chiuso un quarto Che può essere molto più complicato di quello che è stato Il gioco sotto controllo Avete messo pressione a muro Anche se qualche attacco Magari oggi gli attaccanti sono apparsi a volte Anche in certi tratti più in forma Dall'altra parte della rete Ma voi siete state brave Soprattutto un fattore di testa E siete uscite da un momento Che dopo la Champions E' apparso di difficoltà Avete risposto da par vostro Sì, eravamo in un momento di difficoltà Ma penso che ci stiamo concentrati su noi stessi Perché abbiamo espresso un buon gioco L'abbiamo fatto dall'inizio dell'anno C'è stato solamente un periodo di calo Ed è capitato nel momento più importante della stagione Ma adesso ci stiamo concentrando solo sul playoff E l'appetito viene mangiando Con una coscialeva in più Oggi non ha potuto giocare E già il fatto di aver vinto Senza poter disporre di lei Insomma, avete una freccia in più nel vostro arco Sicuramente è una grandissima giocatrice E ci può dare una cassa a mano Per più avanti Grazie mille, complimenti Grazie Ciao Ciao